Pur non finendo nella top 3 delle province con il tasso di criminalità più alto, Napoli si è piazzata piuttosto in alto nell'indice pubblicato da Lab24. Stando ai dati raccolti negli ultimi 12 mesi dal Ministero dell'Interno, organizzati e analizzati dal Laboratorio del Sole 24 ore infatti, il capoluogo campano si piazzerebbe decimo nella classifica finale, con oltre 4.200 denunce ogni 100.000 abitanti, per un totale di 125.119 denunce messe nell'ultimo anno. A Napoli però spetta il triste primato nazionale per il maggior numero di scippi denunciati, 143 per 100.000 abitanti, con un solido terzo posto nella lista dei furti di autovetture e in quella delle rapine, un quinto posto in tema di estorsioni, settimo sia per omicidi volontari che per furti e nono per l'usura. Prima anche in fatto di associazioni di tipo mafioso, ma questo risultato assieme a quello relativo all'usura porta subito a far scattare un campanello d'allarme nella lettura dei dati riportati. Quanto sono attendibili queste classifiche se si basano sulle denunce presentate e non sui fatti effettivamente avvenuti? Napoli non si piazza tra i primi posti, ma la media è rilevata anche dal numero di denunce, ha sottolineato Antonio De Jesu, assessore comunale alla sicurezza ed ex questore e vice capo della polizia. Ad esempio, per i reati di usura, Napoli non figura tra i primi posti, ma questo solo perché le statistiche si basano su quante persone si rivolgono all'autorità e la mia sensazione è che dietro a quei numeri ci sia un sommerso difficile da quantificare, perché c'è ancora troppa paura. Discorso simile per quanto riguarda le associazioni di tipo mafioso, appunto. Oltre alle caratteristiche intrinseche del tessuto sociale, la differenza la fa il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura. E se i cittadini non hanno la percezione di sicurezza, banalmente non si sentono al sicuro nel denunciare gli illeciti. Gli scippi sono una vecchia piaga, ma per arginarla non basta solo la risposta della polizia, serve fare anche prevenzione, perché ormai sono sempre più giovani gli artifici di questi reati, ha spiegato l'assessore regionale alla sicurezza Mario Morcone. A me preoccupa di più che la dispersione scolastica in città sia al 20% e che in alcuni quartieri sfiori il 50%. Grazie. Grazie. Grazie.